ehi la e ce l'abbiamo fatta ragazzi ciao io non so assolutamente vi premetto che non so assolutamente come si facciano queste cose perché qui hanno cambiato tutto e quindi vi avevo promesso questa diretta e la facciamo soprattutto aspettiamo un pochino delle persone che ci devono essere comunque in ogni caso tra l'altro sto sistemando qui perché youtube sembra aver cambiato un sacco di cose qui con i nuovi editor io non vi vedo spero di riuscire a vedere se qualcuno mi scrive facciamo una prova non lo so appena vi connettete ragazzi quindi Nunzia dove sei dove sono gli altri appena siete connessi fatemi sapere se riuscite a scrivere io vedrò se riesco a vedervi e comunque siamo qua per farci una chiacchierata visto che insomma siamo tutti chiusi a casa siamo tutti in quarantena io non so da che parte guardare e quindi guardo dove guarderò qui che cosa andiamo a discutere stasera ho deciso di farlo in diretta e tra l'altro sfidando la censura di youtube perché stasera ragazzi proprio informalmente ci facciamo pure una sigaretta insieme discutiamo un po' di quello che mi è stato chiesto che secondo me ci vuole per forza una sorta di chiacchierata interattiva perché mi è stato chiesto parecchio degli incantesimi dei rituali delle rotes 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 come volete chiamare insomma alla latina anche se non credo che sia insomma un termine latino credo che si dica a me piace i rituali perché comunque quello è il senso quindi la prima cosa di cui diciamo prendendola un po' ampia ne abbiamo anche parlato un po' nei video quelli canonici sono i focus perché prima di tutto per creare comunque un rituale ci vuole la partecipazione dei più maghi che mettano ognuno il loro contributo e quindi ogni mago avrà comunque i suoi focus anche nella realizzazione dei rituali e naturalmente abbiamo sempre qui a supporto il nostro manuale io scusate ho preso un po' di appunti ho messo un po' di foglietti per alcuni argomenti perché ci sono come voi sapete il manuale di me già necessita tipo due lauree però soprattutto vari argomenti che possono essere collegati fra loro qua sono abbastanza sparsi quindi dall'utilità dei rituali nel combattimento alla creazione di meraviglie a comunque rituali per far funzionare un qualunque tipo di incantesimo collettivo o anche quindi dopo ve li farò vedere sempre perdonate un po' qualche impiccio tecnico perché dovrò prendere comunque il mio programma appunti ripeto non sono abituata a questo streaming ho preso un pochino di esempi di quelli che abbiamo discusso comunque nelle nostre campagne nella nostra campagna di cui ringrazio comunque sia gli altri con le loro idee sia soprattutto il nostro master Giovanni De Feo spero non si offenda se lo nomino perché tantissime idee e comunque approvazione o meno di idee discussioni sono naturalmente nate con lui una premessa ulteriore qualsiasi tipo di rituale incantesimo idea è ovviamente a discrezione anche del master perché sì ci sono dei livelli in cui anche il manuale stesso vi indica cosa è possibile e cosa non è possibile fare quindi che interverranno poi nei vari incantesimi rituali però chiaramente ci possono essere dei limiti o delle cose non scritte che verranno insomma saranno da approvare e dicevamo prima di tutto i focus per chi ancora più o meno giocasse da poco comunque non avesse molto chiaro che cosa sono i focus sono fondamentalmente quegli oggetti o comunque quei tramiti quei mezzi e anche diciamo possono dividersi fra oggetti materiali fisici o anche per esempio proprio dei gesti veri e propri o addirittura delle arti e serviranno ad azionare a far azionare la vostra magia far funzionare la magic un esempio molto banale per chi per esempio ama i personaggi acascici è proprio l'arte marziale quindi per esempio un'arte marziale è un'arte vera e propria è proprio una disciplina e può servire anche da focus nel caso dell'attivazione di magie per esempio che abbiano a che fare appunto con range quindi per esempio non so condizionare la materia per esempio la vita perché tramite un calcio rotante un super calcio rotante attivato con l'arte marziale potete fare dei danni seri sia alle oggetti che alle persone potete poi non so sta ai limiti della vostra fantasia secondo me si può fare un po' tutto addirittura generare delle forze certo questo dipende poi da quanto paradosso volete generare sapete che insomma più c'è paradosso quando le magie non sono coincidenziali quindi chiaramente fare un calcio rotante che provochi un'improvviso affolata di vento che spazia via il nemico certamente sarà molto meno credibile per la realtà rispetto a un calcio rotante che insomma fa dei danni notevoli a livello fisico e io farei anche un'ulteriore distinzione fra focus e meraviglie perché vi faccio l'esempio personale in parecchi video ho parlato ad esempio della mia macchinetta fotografica e il focus di Flo il mio personaggio che utilizza la macchinetta soprattutto per gli incantesimi di corrispondenza quindi per me il fatto di fotografare produrre fotografie mi permette proprio di individuare ecco fotografando un luogo o qualcuno di individuare dove si trovi o visualizzare delle mappe spaziali in modo da sapere insomma le locazioni delle cose se invece guardo nell'obiettivo riesco comunque a comprendere le distanze fra le cose che facilita tutta una serie di magic di corrispondenza in questo caso un dispositivo può essere anche una meraviglia che cos'è la meraviglia? è fondamentalmente un oggetto intriso di magia preordinata o meglio può essere si può andare dal feticcio che di solito contiene uno spirito che viene intrappolato all'interno classico feticcio voodoo per esempio a un dispositivo che contiene proprio una magia ripetibile ad esempio ecco la mia macchinetta fotografica potrebbe essere anche considerata se infusa con prime che serve sempre comunque a dare un potere più o meno permanente a un oggetto potrebbe essere considerata una meraviglia perché contiene questa magia di corrispondenza si può considerare non lo so una meraviglia ma veramente una pistola una pistola che ripeta continuamente comunque la sua magia del fuoco la sua magia delle forze ad esempio che determina un cambiamento nella materia una volta che colpisce della vita può essere una meraviglia qual è la differenza secondo me abbastanza sottile molto sottile che una meraviglia normalmente funziona in un tempo limitato e salvo non si riesca a infondere di prime a livelli alti quindi 4-5 dargli quindi un potere permanente sarà una magia che funziona sul momento e dovrà essere comunque ripetuto il rituale per creare questa meraviglia quindi facciamo conto una pistola che faccia un effetto particolare non so veramente disintegrante o per esempio un talismano ecco un talismano per esempio è un esempio di meraviglia molto comune è un talismano ad esempio guaritore avrà quel potere limitato alla guarigione per quel preciso momento in cui verrà usato dopodiché l'effetto si scaricherà e dovrà essere ripetuto infondendogli prime ad alti livelli può avere una durata più o meno lunga addirittura perenne ma lì si parla di maestria mentre per esempio la differenza con non so per esempio quello che può essere la mia macchina fotografica è che la macchina fotografica non è un oggetto influso di prime che è stato creato in un rituale ma probabilmente si può considerare il gesto di fotografare il gesto di guardare in camera il mio modo di attivare la corrispondenza quindi la magia è la mia e soprattutto di ingannare la realtà io ragazzi però vorrei sapere perché porto le cuffie ma sinceramente vorrei sapere se voi mi sentite perché se voi non mi sentite ragazzi io non so perché non riesco a capire se siete se mi vedete adesso faccio un tentativo se faccio qualcosa che non devo fare aspettate che provo una cosa allora dal vivo ecco qua e vediamo un attimo se funziona l'audio faccio una prova perché oltre arrivo audio vediamo un po' se per qualche motivo questa è una chat chat dal vivo sì credo ragazzi che sia possibile scrivermi però datemi conferma e adesso vediamo un attimo se comunque credo che l'audio si senta io però vorrei conferma dalla mia amica quando si connetterà se avete capito dove dovete scrivere e comunque continuiamo ripeto anche perché in ogni caso questo è un video che resterà quindi è un esperimento che volevo comunque fare a prescindere se stasera ci siano più o meno persone comunque resterà fra i canonici fatta questa distinzione solitamente scusate un po' di tosse solitamente ecco fatta questa premessa dei focus per farvi capire insomma un po' come si attiva la magic fare un rituale richiede quindi una combinazione di più sfere è possibile farlo da soli è possibile ovviamente quando si maneggiano più sfere è possibile fare anche da soli un rituale è possibile farlo in gruppo quindi riuscire a combinare le varie sfere dei vari maghi per creare un'infinità di rituali ragazzi lì ci sono vi ho messo anche dei link nella pagina facebook e quindi potrete vederli insomma su Aluna Games pagina facebook ci sono un po' di road compendium quindi addirittura ce n'è uno dove potete inserire stasera lo userò dove potete inserire proprio le sfere che vi interessano e vedere avere qualche idea rispetto agli incantesimi fattibili e per esempio facciamo un pochino di combinazioni tanto per farvi capire abbiamo fatto diversi rituali nella nostra campagna collettivi per esempio una volta tanto per farvi un esempio abbiamo costruito un meccanismo un orologio che avrebbe simboleggiato visto che avevamo intenzione di far arrestare dei criminali che erano sulle nostre tracce quindi ci sarebbe stato un grande raduno in occasione di una corsa di cavalli e quindi abbiamo preparato in diversi giorni che in termini di gioco ovviamente si traducono in lanci di dato lanci di dati quindi riserve di dati accumulate lanci di dati che rappresentano ogni tot ore ogni tot minuti a seconda della durata del rituale e ogni successo da modo appunto di procedere e vedere un po' i tempi in cui si può realizzare il rituale e quindi se riesce o meno ovviamente purtroppo lo svantaggio di un rituale collettivo significa che se uno solo dei partecipanti fa un fallimento critico purtroppo bisogna ricominciare da capo e naturalmente si va accumulando sempre paradosso perché ogni fallimento critico è un paradosso quindi se il rituale se volete che il rituale funzioni meglio tra l'altro si consiglia di scegliere dei giorni perché ricordate che la magia funziona per i paradigmi quindi se andate a pescare diciamo il paradigma in cui vi trovate che significa semplicemente una certa visione della realtà quindi il paradigma ecco un paradigma medievale è le streghe volano quindi la magia del volo su una scopa sarà accettata e quindi funzionerà ricordatevi che è la convinzione comune che fa agire soprattutto la magia e non crea paradosso quindi andando ad agire su alcuni paradigmi quindi per esempio che le festività abbiano un significato simbolico religioso o simbolico profano però nella convinzione comune portino bene o portino male o abbiano un significato particolare avrete comunque la possibilità di fare i rituali molto più efficaci che quindi saranno comunque funzioneranno molto meglio e per esempio creare un rituale il giorno di San Patrizio soprattutto se per esempio a tema allora volete moltiplicare del denaro e siete sotto San Patrizio e volete creare la pentola la pentola magica che crea oro ho fatto un esempio stupido oppure far innamorare qualcuno nella festa di San Valentino quindi creare un filtro un filtro d'amore un rituale d'amore sicuramente funzionerà molto meglio comunque per tornare al nostro rituale dell'orologio abbiamo costruito un grande orologio simbolico che avrebbe insomma aveva stato infuso poi con Prime da parte del nostro maestro di Prime perché durasse è stato usato time tempo perché funzionasse a orologeria che cosa significa grazie al tempo è sempre possibile che un effetto magico possa essere piazzato in un momento preciso del tempo quindi posticipato oppure proprio tramite il rituale che ovviamente andrà descritto anche come al solito maestro è molto descrittivo e soprattutto dovete convincere il master si basa molto ma anche a parte le regole sul convincere dell'efficacia di quello che state facendo quindi abbiamo deciso il giorno e l'ora in cui si è veduto scattare ogni meccanismo dell'orologio abbiamo creato con materia l'orologio fisicamente nel legno ecco sempre tramite il nostro maestro ho infuso io spirit perché appunto essendo io maestra di spirito ho infuso spirito affinché a un certo punto della corsa di cavalli si creasse scompi e gli uscissero fuori degli spiriti proprio c'era un motivo particolare comunque avrebbe dovuto uscire fuori una banda di spiriti fondamentali anzi precisamente erano gli spiriti della banda del paese della città morti nel 1800 quindi una sorta di parata spirituale spettrale e quindi a un certo punto sarebbe successo questo in altri momenti rappresentando questi criminali tramite alcuni uccelli tipo la colomba perché alcuni dei loro nomi richiamavano questi rapaci scusate non la colomba il falco la colomba non è un rapace comunque falco colombe uccelli e rapaci vari è stato possibile simboleggiare proprio gli individui da catturare e quindi a un certo punto tramite questo meccanismo orologio scattavano delle piccole gabbiette e significava che a tot ora a tot giorno in quel momento sarebbero scattati gli arresti quindi la polizia sarebbe arrivata ad arrestarli è stato complicato ci sono venuti giorni in gioco abbiamo dovuto scegliere tutti i vari focus ma creando questo rituale insieme siamo riusciti a ottenere questo effetto adesso andando poi togliendo la parte descrittiva ci sono delle possibilità proprio di combinazioni di sfere che poi è quello che mi avete chiesto spesso quindi ad esempio come combinare qualche esempio di come combinare le sfere come vi ho detto ad esempio corrispondenza permette di poter fare degli incantesimi a distanza per fare un esempio banale utilizzare forze ad esempio vi ricordo naturalmente che al primo livello e al primo livello di qualunque sfera si ha la percezione quindi comunque se per esempio volete percepire a distanza la presenza non so ma facciamo di una persona va in questo caso perché sentite la vita a distanza sentire la vita a distanza basterà avere corrispondenza per esempio a due o tre a seconda di quanto volete visualizzare insomma e vita anche soltanto a uno per esempio visualizzare se in un'altra stanza c'è la presenza di vita e quindi avvertire il calore e proprio la presenza di vita per vedere se per esempio in un'altra stanza vi stanno aspettando o c'è qualcuno la stanza è vuota e può essere utilissimo per vedere se appunto state passando dovete passare inosservati o avete paura che il nemico vi aspetti quindi comunque avete bisogno di fare una sorta di sonda e potete udire anche ecco per esempio con le forze potete udire dei suoni a distanza commenta potete leggere nel pensiero ovviamente adesso non vi faccio proprio delle specifiche come dire dei specifici valori vi ricordo solo che al primo livello di qualunque sfera avete il limite della percezione quindi potete percepire non potete fare dei cambiamenti ancora già dal secondo livello cominciate a fare dei piccoli cambiamenti su voi stessi fondamentalmente quindi per esempio corrispondenza vi permette di amplificare i suoni che sentite scusatemi ho pensato a forze corrispondenza vi permette di per esempio fare dei cambiamenti nello spazio di piccola entità percepire ad esempio i cambiamenti spaziali se qualcuno sta usando una magia di corrispondenza o c'è una distorsione spaziale la potete percepire potete creare delle piccole distorsioni già altre cominciate a fare dei cambiamenti significativi oppure a poter agire in piccolo grado su altre persone anche se cominci veramente ad agire sull'esterno dal 4 che è maestria e poi il 5 è capacità eccezionale quindi fate un po' come vi pare insomma a quel livello partendo da questo presupposto potete secondo me discutere poi con il master o andare a vedere degli esempi su questi database di tutto quello che vi può che può essere un livello buono per ottenere degli effetti come vi stavo dicendo ad esempio un altro ecco vi faccio degli esempi miei personali ne abbiamo fatti tanti io per esempio utilizzo moltissimo i colori come focus perché vi ricordo che ho un personaggio strano che nonostante sia cieco attualmente è stata una vettrice e quindi continuo a visualizzare i colori nella sua mente e utilizzo ancora il focus dei colori che sono quelli con cui si è svegliata diciamo dal livello della mente quando ancora non era cieca e infatti è molto divertente insomma anche interpretare questa cosa utilizzo moltissimo i colori e ad esempio lavoro insieme spesso alla abbiamo cominciato a lavorare insieme alla nostra maga che ha mente molto alta e a tempo molto alto ed è una sarta quindi utilizza stoffe utilizza accessori bottoni stoffe queste cose qui per creare degli effetti per esempio che influenzino a parte la vita scegliendo dei materiali particolari che influenzino la mente e lei lo fa con le stoffe io lo faccio con i colori quindi abbiamo lavorato spesso per creare degli effetti mentali abbastanza importanti sulla scelta di vestiti che possano fare degli effetti che vengono amplificati dai colori ad esempio un altro esempio carino è stato cercare di andare a pescare con tempo andare ad anticipare le mode quindi andare a vedere per esempio nel futuro tramite un rituale in cui lei utilizza se non erro per quanto riguarda il tempo utilizza proprio i volatili quindi gli uccelli e anche un famiglio che a volte lavora per lei in questo senso utilizzando piume o materiali provenienti da uccelli in un rituale può utilizzare la magia del tempo quindi andando nel futuro a spiare a dare un'occhiata con corrispondenza e tempo alle mode a quelle che sono state comunque le mode scusate ma mi si stava attivando mi si è attivato il vocale del telefono non so perché ma avrà sentito parlare dicevo andando a vedere in particolari momenti del tempo e in particolari luoghi quali saranno le mode del futuro e che cosa creeranno per esempio a livello di cultura a livello di impatto sociale eccetera eccetera portarle nel nostro tempo quindi andare a copiarle e anticiparle quindi essere noi quelle che creeranno queste mode e voi direte a scopo puramente commerciale buttalo via ma comunque soprattutto perché noi sappiamo bene che mode e cose di questo genere hanno un forte impatto mentale quindi creare una magia mentale collettiva niente di meglio della moda o della musica e quindi lavorando insieme con questo rituale in cui io posso metterci la mia visione dei colori lei può metterci il tempo io posso metterci la corrispondenza come ottenere un rituale del genere non l'abbiamo ancora fatto era in programma per esempio sarebbe possibile utilizzare per lei avendo lei il focus appunto degli uccelli o ad esempio proprio del piumaggio e sarebbe possibile utilizzare le mie fotografie per esempio delle fotografie che si riferissero a dei modelli di vestiti fatto un esempio a caso tutto da verificare con il master e utilizzando insieme questo materiale spendere proprio in gioco un numero di successi che stabilito prima con una riserva di dati che sarà comunque la riserva di dati ovviamente ottenuta dal mio numero di di sfera ovviamente nel tempo per esempio il suo del tempo il mio nella mente il mio nella corrispondenza eccetera eccetera avremo questa questa riserva di dati da lanciare e decideremo un tempo in cui vorremo che l'incantesimo poi del rituale debba riuscire quindi quanto tempo ci prendiamo chiaramente più tempo ci prendiamo e più avremo dei bonus comunque ai successi da fare o la riserva di dati da avere e facendo questo rituale per esempio abbiamo già creato un facendo appunto scusatemi questo lavoro insieme con i nostri focus abbiamo creato un rituale e vi vado a fare qualche altro esempio per esempio di combinazioni di sfere che possono essere carini e qua avevo preparato qualcosa allora questo viene direttamente non so se vedete nello specchio alle mie spalle no, non lo vedete comunque per esempio nella nostra pagina Facebook dedicata al nostro gruppo Facebook dedicato proprio alla nostra campagna Midnight Circus avevamo per esempio deciso di farci proprio un nostro database personale con degli incantesimi che potessero essere utili dei rituali utili da usare insomma all'occorrenza una cosa carina per esempio che era venuta fuori era la mia idea ancora da provare di una borsetta senza fondo che cos'è la borsetta senza fondo? chiaramente io utilizzo come già vi ho detto molto la corrispondenza sono arrivata a un punto in cui avendo già corrispondenza 2 posso estrarre insomma andatevi a vedere poi sul manuale c'è scritto comunque già con corrispondenza 2 è possibile estrarre dei piccoli oggetti o delle piccole forme di vita da un luogo non è un vero e proprio portale però potete vedere in un altro posto e riuscite a estrarre queste cosette piccoline quindi un gattino un libro insomma tutte cose piccole e quindi mi sono detta perché non provare a fare per ingannare la realtà perché ricordatevi sempre che questi incantesimi devono ingannare la realtà sembrare coincidenziali altrimenti vi beccate una botta di paradosso che ci sono delle tabelle apposite per vedere che cosa vi fa a livello di alienazione mentale e andarvi a beccare a scaricare parecchio paradosso quindi comunque rendiamola più plausibile come si può fare? ho detto perché non creare in un rituale una borsetta che uno se la porta appresso e per dire guarda caso ogni volta che apro con la borsetta ho bisogno di qualcosa che si trova in un altro posto guarda caso avrò in borsetta proprio con l'oggetto che significa che tu in realtà stai mettendo la mano dentro una borsa e prendendo qualcosa da un altro luogo quindi basta guardare nella borsa e attivare la corrispondenza e decidere di guardare in un altro luogo mettere la mano dentro e tirar fuori o guarda ho un rossetto o guarda cercavo proprio questo libro è una cosa che inganna la realtà chiaramente voi sapete che non è così ma è la realtà comune che deve essere ingannata quindi questa cosa di tirare fuori è un po' come perché infatti i prestigiatori sono avvantaggiati perché tirar fuori un coniglio dal cilindro è proprio la classica magia che inganna la realtà in quanto sei un prestigiatore quindi è sicuramente un trucco e tutti ci credono e questa è più o meno la stessa cosa chiaramente va realizzata perché in un rituale prima comunque era da discutere perché normalmente io utilizzo le fotografie quindi in questo caso volendo fare una borsetta ottengo una foto appunto sempre a disposizione sul fondo della borsetta ma chiaramente per la realtà equivalrebbe comunque a cacciare a tirar fuori una cosa da una fotografia quindi poco plausibile oppure e lì è da discutere facciamo un rituale prima per fare in modo che tramite le mie fotografie i focus di chi interviene il prime tutto il resto la borsa diventi una meraviglia ad esempio e magari una meraviglia permanente una volta che potremo metterci nel prime e quindi già abbiamo creato in un rituale per esempio una meraviglia che può essere utile per ingannare la realtà un'altra cosa che io utilizzo spesso sono per esempio la combinazione di spirito e forze perché io parlo con l'aldilà tramite le radio ecco questo per esempio è un altro uso carino tramite già a uno si possono percepire le distorsioni si possono comunque percepire più o meno gli spiriti già con due puoi vedere oltre puoi sentire e vedere oltre se hai le forze quindi utilizzi o utilizzo come focus per le forze gli apparecchi tecnologici quindi con una radio riesco a sintonizzarmi per poter sentire tramite proprio le onde mi vanno a finire nell'umbra quindi le onde che io ascolto si prolungano nell'umbra ed ecco lì altro esempio di combinazione di sfere per creare una cosa interessante un altro che era venuto fuori ringrazio Giovanni di questo era per esempio un barattolo di muffe nocive aveva lui prospettato a propagazione rapida quindi vita 2 ovviamente per avere la possibilità di fare insomma diciamo comandare in un certo senso come dire le muffe in questo caso avevo pensato anche addirittura di fare una cosa alla Dragon Age quindi farla con le api o comunque di però credo ci vorrà forse vita 3 già lì per poter comunque dare dei comandi anche semplici ad api e sciami di animali vita 2 già insomma con le muffe è possibile Prime 2 ovviamente per renderla per dargli una durata e Tempo 3 perché quella durata dovrà diciamo Tempo 3 vi permetterà di far esplodere per esempio il barattolo di muffe nocive al tempo in cui decidete voi nel momento in cui voi decidete questa è un bellissimo per esempio incantesimo una bella combinazione io ho ipotizzato per la mia borsetta per esempio Spazio 2 che ovviamente mi permette di tirar fuori gli oggetti Prime 3 o 4 per renderla permanente però ovviamente ci voleva il rituale ed era sempre comunque da discutere un'altra cosa per esempio ecco un incantesimo sempre tirato fuori da me una bella combinazione di sfere era avevo ideato un biglietto da visita incantato ricordatevi io lavoro col disegno con la pittura e quindi biglietto da visita incantato realizzato ovviamente da me con i colori eccetera eccetera è un bell'incantesimo che si può fare con Mind 2 Prime 3 o 4 sempre per la durata ovviamente Prime serve sempre a dare una durata più o meno lunga o permanente all'incantesimo l'idea era quella di predisporre positivamente le persone che lo prendono nei confronti del proprietario quindi comunque è proprio il biglietto da visita classico ragazzi perché voi vi fate un biglietto da visita per predisporre diciamo chi lo prende a chiamarvi per fare bella figura quindi più sarà di impatto più sarà bello più sarà ben realizzato quella è una maggia di mente né più né meno quindi stiamo parlando di cose che conosciamo tutti i giorni a seconda dei colorisati può anche dare differenti effetti chiaramente vi potete fare una tabella ad esempio il verde darà un effetto di serenità e il rosso darà un effetto di passione di urgenza e ripeto ragazzi stiamo parlando della magia che abbiamo sotto il naso tutti i giorni se voi guardate un sito internet del fatto in alcuni colori si studiano proprio sono delle cose che si studiano ecco voi dovete pensare che nella nostra realtà secondo Mage chiaramente la magia non è nient'altro che quello che noi abbiamo tutti i giorni chiamiamo scienza chiamiamo tecnologia chiamiamo comunicazione in realtà è tutta magia che noi abbiamo chiuso in queste definizioni per renderle accettabili però ogni volta che voi parlate con un tono ad esempio sua dente a qualcuno riuscite a provocargli un effetto guardate la SMR se non è magia mentale quella o comunque addirittura va a coinvolgere poi i sensi quindi la vita stessa crea proprio per esempio abbassa potrebbe abbassare l'adrenalina crea degli effetti comunque anche fisiologici che vi danno sonnolenza o vi danno rilassatezza quindi è proprio una magia di mind e vita migliore di quella non c'è addirittura anche di forze perché soprattutto state parlando con dei microfoni magari fate dei frusci e mettete dei rumori chiaramente state usando anche le forze tornando al biglietto da visita ad esempio potete fare un bello schema in cui avete dei colori scusate io mi vado a accendere la mia sigaretta che appunto è un incantesimo di forze concentrato in una meraviglia chiamata accendino e che è anche un dispositivo ecco qua esempio di dispositivo abbiamo fatto una bella magia di forze in materia ed ecco qui che ci siamo accesi la sigaretta e questo è appunto tutti i giorni tornando al biglietto vi fate un bel elenco di quelle che possono essere per voi dei colori simbolici che volete utilizzare e vedere diversi effetti mentali poi ad esempio vediamo un attimo attenzione qui ho anche messo una nota con l'aggiunta di spazio 2 se basta ovviamente se no potete andare al 3 permette di sapere sempre dove si trova e chi porta il biglietto con sé quindi volete dare un bel biglietto da visita a qualcuno per poterlo rintracciare utilizzate per esempio credo che spazio 2 dovrebbe bastare perché vi permette di percepire la distorsione spaziale mi viene sempre di spazio temporale ma in realtà è spaziale e capire magari dove si trova certo con 3 è più potente quindi insomma lo potete visualizzare proprio attraverso magari riuscire ad aprire un portale nei suoi confronti sapendo subito dove si trova ed è può essere utilissimo ragazzi attenzione è proprio un rintracciatore un'altra bellissima che c'era venuta era il guanto della confusione l'avevo chiamato così perché potete naturalmente dare dei nomi ai vostri incantesimi anzi ve lo suggerisco e per esempio il guanto della confusione era un incantesimo di mente 3 prime 3 o 4 a seconda della durata realizzando il guanto con le giuste stoffe i giusti colori praticamente mandate in confusione mentale chiunque ne viene sfiorato o colpito quindi l'avevamo chiamato detto anche il one punch glove cioè usato in combattimento per esempio può diventare un guanto offensivo aggiungendoci vita 3 perché farete proprio dei danni a livello di vita quindi se riuscite a colpire qualcuno con questo guanto gli provocherete un danno che sarà assolutamente plausibile perché tirate un cazzotto a uno con un guanto è plausibile che vada per terra e magari gli viene invece che prendersi solo un danno lo volete danneggiare seriamente e vorrà dire che porca miseria per caso gli avete colpito un punto che gli farà scappare un embolo o magari è morto proprio perché gli avete causato uno shock un infarto fulminante chiaramente non si tratterà altro che dell'effetto di vita 3 che vi permette di fare questo però starete ingannando nuovamente la realtà quindi vi sarete creati prima una meraviglia come in questo caso proprio una meraviglia che aggirà in quel frangento in più frangente a seconda del prime infuso esempio appunto di combinazione fra mind prime e vita ad esempio per esempio potete causare degli effetti mentali con i colori del guanto perché anche qui andate a agire sul paradigma perché il paradigma ad esempio lì vi può permettere di fare diverse cose un po' come il discorso delle stoffe e delle mode se voi avete per esempio un cappotto a spirali potete mostrarlo a qualcuno mostrare una stoffa a spirali può fargli venire per esempio una confusione mentale stessa cosa abbiamo questi guanti voi andate a agire sul paradigma e il guanto di seta ad esempio è normalmente associato a qualcosa di sensuale e per esempio potreste provare delle magie di seduzione magie mentali grazie a un guanto d'altronde è plausibile che se io con un guanto di seta ti accarezzo il viso puoi rimanere sedotto e quindi sto agendo sulla tua mente è un incantesimo di mente ne più nemmeno volete aggiungerci un effetto di vita per esempio creando questi guanti l'effetto di vita potrebbe causare sempre come dicevo prima degli effetti fisiologici vado con l'ultimo perché si è fatto già avevo deciso di fare non più di una mezz'oretta 40 minuti perché poi c'è da discutere parecchio questo è sempre un esperimento che appunto vedremo di eventualmente ripetere uno bello per cambiare argomento che io faccio con spirito è per esempio uno scudo dello spirito questo ecco univa insieme parecchie sfere ed è bello perché è uno scudo che si può usare proprio nell'umbra l'avevo creato per me coinvolge per esempio le sfere di spirito 3 materia se si vuole chiaramente l'oggetto creato apposta prime 3 per la consagrazione e la durata perché va consagrato qualunque oggetto che si porti nell'umbra va consagrato altrimenti nell'umbra non c'entra ve lo dico prima salvo proprio le cose che sono strettamente vostre per esempio i vestiti oppure quelli che portate sempre oppure il vostro focus per esempio la mia palette che è il mio focus dei colori viene con me a parte quello che è la cosa più stretta che potete avere non potete portare altro allora abbiamo deciso che se per esempio materia perché se volete crearlo proprio come oggetto a sé stante spirito appunto 3 per poterlo usare nell'umbra e soprattutto per avere effetti nell'umbra soprattutto offensivi attenzione perché spirito 3 vi comincia a permettere di fare danno agli spiriti prime 3 per la consacrazione appunto alla durata come dicevamo mind 2 o 3 per percepire le intenzioni dello spirito dello spettro cioè praticamente che si va a creare un oggetto scudo che rispinge gli attacchi di spiriti che hanno intenzioni ostili quindi voi riuscite a percepire infondendo mente le intenzioni di uno spirito quindi spirito e mente dovete infondere forse basta pure mind 2 perché si riconosca solo l'attitudine ostile però più aumentate comunque il grado di sfer sarà preciso si può creare appunto l'oggetto con la materia può essere di semplice realizzazione o utilizzando magari già uno scudo vero o qualcosa che faccio da scudo o creandolo apposta e mi è stato rilanciato dal master questa ipotesi ovviamente per esempio si può mettere disegni simbolici questo perché io utilizzavo prima di perdere il focus in spirito utilizzavo i disegni quindi inciso di disegni simbolici avrebbe fatto comunque danno perché utilizzava lo spirito e dipinto di colori appositi poteva servire appunto a creare degli effetti negli spiriti anche offensivi oppure a percepire appunto le emozioni e le intenzioni volevamo addirittura rivestirlo di stoffe in modo da dare degli effetti anche di proprio di diciamo mettere in mezzo il focus della nostra altra maga fatto con spirit 3 materia 2 mind 2 forze 2 prime 3 addirittura si poteva mettere a brillare quando sente l'intenzione di spiriti ostili quindi voi avete dato con forze 2 la capacità di brillare con materia 2 avete creato l'oggetto con spirit 3 avete dato la possibilità di entrare nell'umbra e fare danni agli spiriti con prime 3 l'avete consacrato e gli avete dato la durata e con mind 2 appunto dicevamo avete la possibilità di percepire le intenzioni degli spiriti se sono ostili scatta forze 2 quindi comunque lo scudo brilla e questo è stato un esempio proprio di combinazione di 1, 2, 3, 4 5 sfere ragazzi abbiamo combinato per creare un oggetto meraviglia di questo genere chiaramente non tutto poi è finalizzato a creare delle meraviglie perché si possono fare anche dei rituali che insomma una combinazione di sfere che agiscano sul momento un po' come vi dicevo prima se per esempio non volete usare il guanto ma no vabbè ma non serve ecco la radio che vi dicevo prima la mia radio posso utilizzare o no qualunque radio non ho bisogno sempre della stessa per sintonizzarmi con l'umbra ad esempio può esserci un effetto immediato in cui potete combinare per esempio come dicevo prima potete dare un calcio rotante creare effetti di vita e mente cioè scioccare una persona fino al punto di fargli causare un infarto soltanto con un calcio avete già combinato due tre sfere lo fate sul momento quindi non è non è una meraviglia bensì è proprio una combinazione di sfere eccetera il rituale ovviamente si differenzia dalla combinazione di sfere banale semplice perché proprio da questo perché una combo di sfere è proprio un incantesimo che si può fare anche sul momento mentre un rituale può richiedere proprio il tempo necessario a crearlo può richiedere dei materiali che potete mettere aggiuntivi può richiedere un progetto eccetera eccetera e con questa ragazzi vi lascio per adesso perché io devo controllare in tutto ciò perché non ho fatto prove se l'audio poi è venuto fuori insomma se si sente se rimane anche in registrazione o mi tocca arrivare tutto da capo quindi mi auguro di no è stato bello spiegarvi un pochino di cose e vediamo se riusciamo anche un po' a fare una chat la prossima volta tanto ripeto questo era l'esordio per vedere come funziona un po' questo streaming nuovo e quindi un bacione a tutti da Luna e niente ci vediamo alla prossima chiacchierata da avrete avvertiti per tempo e oppure insomma intanto vi manderò un video di questi registrati se la qualità per ora vi va bene sto procurandomi ragazzi il caricabatterie purtroppo chi lo sa che ho avuto il problema con la Reflex adesso in qualche modo senza ordinare magari cercherò di prenderlo in prestito vediamo un attimo che combino comunque un bacione a tutti per stati è tutto grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao